La speranza è riuscire a portare la divisa per cui lui ha creduto fino alla fine. Primo giorno da poliziotta con il ricordo di Pasquale Apicella, suo marito, l'agente scelto ucciso a Napoli nell'aprile scorso per sventare una rapina in banca. Una delle tante divise è tinte di rosso per difendere la legalità. Ed è in atto un corso presso la scuola allieva agenti di Caserta, frequentato esclusivamente dai familiari delle vittime del dovere. Sono nove di loro che portano avanti con onore la divisa appartenente una volta al loro parente. Anche se in forma ridotta e con distanziamento, negli spazi della diocesi di Caserta per il nono anno, una o due giorni tra memoria, riflessioni e santa messa in guomo, promossa dall'Associazione Nazionale Vittime del Dovere d'Italia, l'Appello. Stiamo chiedendo delle tutele e dei risarcimento relativi all'equiparazione delle vittime del dovere e alle vittime del terrorismo. Quindi maggiore considerazione per il sacrificio degli appartenenti alle istituzioni. È un rafforzamento dell'impegno di tutti coloro che nella pubblica amministrazione, in particolare nelle forze dell'ordine e nei corpi armati dello Stato, ogni giorno si impegnano a difesa della collettività. Adesso l'emergenza del Covid. La terza domenica di avvento, sia una domenica in ricordo di tutte le vittime del dovere. È una domenica di avvento, sia una domenica in ricordo di un'ordine e di un'ordine e di un'ordine. Grazie a tutti.